Sì, è da mesi che comunque il procuratore mi aveva comunicato che comunque c'era interesse da parte del Teramo prendermi, acquistarmi e quindi poi in questi giorni, ci sono stati un paio di giorni comunque per la trattativa e appena ho avuto l'opportunità di venire a Teramo per allenarmi con la squadra e stare con il mister e subito sono venuto. Ho fatto 4 anni di settore giovanile a Benevento che poi successivamente sono andato in prestito a Taranto e poi dopo ho fatto un anno di C a Cava che poi sono qui oggi. Sì, sono un giocatore che comunque mi piace lottare, correre e giocare la palla e spero aiutare tanto per questa maglia. A Taranto ho incontrato il mister Panarelli che comunque ho fatto giocare a 2 poi successivamente a Cava dei Tirreni abbiamo giocato a 3, a 2, non ci sono problemi comunque, sia a 2 che a 3 mi trovo bene. Sì, è stata una bella emozione comunque affrontare una squadra come il Teramo che comunque anche l'anno scorso ha fatto playoff e tutto, quindi sono contento di far parte di questa società e di questa piazza importante come Teramo e spero di dare tanto. Sicuramente migliorare a livello personale e puntuare più in alto possibile con la squadra.